ciao a tutti benvenuti nel mio canale velocetto tv e oggi continua la nostra avventura con dirt rally ma cambiamo tipologia iniziamo il campionato rally cross primo appuntamento hell in norvegia qui stiamo vedendo come è formato il circuito nelle rally cross sappiamo che sono dei circuiti asfalto e terra o ghiaio dipende dove andiamo a correre ovviamente e c'è il giro joker o il giro jolly da effettuare che qui vediamo nella mappa disegnato in giallo questa è la pista come primo appuntamento ci sono le qualificazioni da effettuare questa è la nostra macchina ecco che ci spiega il giro joker dovrei effettuarlo una sola volta se lo manchi e riceverai una penalità di tempo ok noi abbiamo scelto la volkswagen polo come abbiamo detto e abbiamo fatto già la qualificazione 1 come sapete si fanno delle qualificazioni in base al numero dei piloti e vi faccio vedere il replay del giro effettuato questa è la nostra bellissima volkswagen polo nel frattempo che vediamo anche come è formata la pista perché abbiamo visto che noi siamo andati subito a fare il giro joker e lo siamo tolto subito davanti vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e lasciare una bella iscrizione con una campanella attiva che non perdo neanche il episodio con il tiltrelli quando qui facciamo un sorpasso più altissimo e anche lì non perdervi le live che andrò a fare in questo periodo questo è il giro della pista qui abbiamo fatto un giro normale ecco i risultati per le semifinali quindi proseguiamo andiamo a disputare le semifinali ma prima torniamo al parco assistenza per riparare la nostra auto ci sono i freni da sostituire ma non li voglio sostituire quindi andiamo avanti iniziamo la prima semifinale partiamo primi il gioker a questo punto me lo giocherei dopo qualche giro partiamo e via ottima la partenza un po' larghini qui questo abbiamo fatto nettamente meglio anche questo decisamente meglio andiamo giù a che paletto ottimo ottimo a salversi ci siamo quasi fermati e siamo finiti largissimi che tornante qui ah questo l'abbiamo sbagliato completamente molte hanno fatto già il gioco manchiamo noi e il secondo nel frattempo prendiamo pure la botta non ci voleva andiamo a fare il gioco ampiamente davanti e di nuovo abbiamo due giri almeno da fare questa volta non è come a barcellona dove abbiamo avuto difficoltà un'altra abbasciata a guardatella lì super tornante wow che curva qui stiamo andando fortissimi ecco me la sono buttata non male che avevamo abbastanza vantaggio ciao posizione finale primi ottimo per questa prima semifinale prendiamo i 6 punti prendiamo i 6 punti Yan Li è il diretto avversario allora andiamo per l'altra semifinale quella finalissima di Hell in Norvegia ci fanno rivedere il tracciato che ha più versioni in quella parte centrale anche nella parte dove c'è il palco chiuso la finale andiamo direttamente in finale quella che prima non siamo riusciti a fare c'è riparazione standard riparazione veloce riusciamo e allora proseguiamo così e andiamo a fare la finalissima del rally cross in Norvegia partiamo primi e cercheremo di rimanerci la finale anche sei giri ok siamo partiti abbastanza bene abbiamo mantenuto la prima posizione tornanti fatti in maniera egregia anche questo fatto molto bene gli ho detto ciao ciao ma è la compagnia sicuro curva anche questa fatta in maniera egregia un super giro super giro super giro super giro 39 solo partendo ho un po' sbagliato facciamo un altro giro normale normale 36 a 9 grande tornante questo un po' meno infatti perdiamo un po' la vettura mamma che curva che abbiamo fatto qui qui abbiamo perso qualcosina vediamo 37 e 5 andiamo a fare il gioco bene siamo arrivati lunghi ma noi siamo abbastanza primi uuuuuh speriamo di non incorrere in penalità siamo sempre primi siamo sempre primi abbiamo perso 5 secondi abbiamo perso 5 secondi ottimo questo tornante l'uscita spennellata 36 a 8 questo giro ormai 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 il nostro è la vittoria l'ultimo giro mi devo complicare la vita l'ultimo giro non c'è niente da fare ma vinciamo comunque posizione finale prima vediamo che succede adesso prima non abbiamo avuto l'occasione di vederlo gialli arriva secondo 30 punti ho visto ma non so che cosa fosse esattamente ed ecco evento completato ci prendiamo i punti 30 24 gli alli di compensa evento vediamo che cosa succede adesso ah era tutto lì classifica campionato siamo primi perché ho fatto sesto e primo mentre falstrom ha fatto secondo e settimo e e yang lì che è arrivato quarto no secondo è arrivato decimo nel primo appuntamento che dire ragazzi per questo episodio è tutto no non voglio uscire ho fatto un errore per questo episodio è tutto e allora noi ci becchiamo al prossimo episodio che è la finale di campionato rally cross quindi non perdetevi quest'ultimo appuntamento iscrivendovi al canale attivando la campanella e mi raccomando lasciate un bel like un saluto da velocetto tv ciao ciao a tutti ciao